...tre giorni, quale che sia stato il tempo che voi avete percepito qua dentro? Vi abbiamo tenuto qui dentro perché vorremmo che dopo essere stati nello spazio tutti insieme voi torniate sulla terra tutti insieme e quindi adesso facciamo davvero l'ultima attività di debriefing non è l'ultima, l'ultima nello spazio allora bene, per prima cosa diremo addio allo spazio, poi diremo addio al personaggio addio al personaggio che vuol dire spogliarsi delle truppe che avete indossato per questi giorni per ultimo diremo addio a Icarus Station, ciascun gruppo andrà nel suo laboratorio vedrà di mettere un po' in ordine, recuperare gli oggetti di gioco eccetera eccetera oggetti personali e così e poi dopo faremo la fiesta loca a Icarus Station ok? ma la prima operazione da fare è tornare sulla terra, dallo spazio per cui vi chiedo cortesemente di fidarvi di noi chiudere gli occhi prendervi per mano formando un enorme serpentone perché alcuni lo hanno detto eravate molto divisi ma qua dentro eravate tutti uniti in qualche maniera chiudete gli occhi e vi guideremo verso la luce dobbiamo avere la stessa serpente ci muoviamo in silenzio prego, prego, prego di tenere gli occhi in giù ok? occhi chiusi e ci muoviamo mi raccomando, vado dritti se no devasserete le brandine scadino 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 ogni volta quello dietro io pianissimo un gradino un gradino scadino 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 attenzione scalino scalino serrato scalino scalino ho scherzato piano no mi stiamo tonati aspettate ancora 5 minuti perвойra manà Grazie. 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 Magnifico, magnifico. Grazie. E bentornati sulla terra. Bentornati. Ciao Biagio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao Tiara. Ciao Giangi. Ciao Elio. Ciao Lupo. Ciao tutti amici. Lasciate. Ciao. Porco Dio. Oh no. Ciao Laura. Lunga vita al Magnifico. Lunga vita. Lunga vita. Lunga vita. Lunga vita. Altura, lunga vita. Lunga vita. Lunga nuova. Vicarus, 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 Vicarus.